Parlami. Dov'è il trucco? Sei iperpensante. E tu ipopensante? Non è una parola. Sono qui per vendicarmi. Ragazzo, non sa nemmeno chi sei! Succede qualcos'altro. Cosa ci aspetta a Kyoto? La morte bianca, con i suoi assassini. Dobbiamo tirare fuori un piano. Ci prepariamo insieme o moriamo da soli? Io vorrei una bottiglietta d'acqua. Sicuro che non vuoi parlarne? Francamente no. Grazie a tutti.